Buongiorno amore! Buongiorno! Eccoci qua! Hai fame? Adesso andiamo a preparare il latte! Eccoci qua nel dondolo, mentre io preparo il latte. Allora, mettiamo le cinture. Allora, mettiamo le cinture. Allora, mettiamo le cinture. Allora, mettiamo le cinture. Brava Giulia che mangia la pappa. Brava la bambina. Buongiorno! Ma che brava Giulia che ha finito tutta la pappa. Adesso facciamo il rottino. Eccoci qui. Oh, ecco. A posto, mangiata la pappa. Buongiorno! 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 ecco qua pulita e profumata perfetto e adesso mettiamo i vestitini sto a liti ecco qui un po' di farlo questi bellissimi pantaloncini rosa eccoli qui quanto sono i pallini e adesso la cittina i sondamenti eccoci qui adesso ti metto un po' nel rumetto mentre mamma si prepara eccoci qui 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 Grazie a tutti. Pronta per la pasteggiata Giulia? 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 Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, condividetelo per favore, condividetelo su tutti i vostri social perché con tutta la fatica che abbiamo fatto a filmarlo, insomma condividetelo, grazie mille. E iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che carico e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.